Ha preso il via un ciclo di incontri promossi dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del turismo dell'Università di Macerata, sui cammini turistico-culturali. I dialoghi a più voci proposti rappresentano occasione per gli studenti di accrescere la loro formazione professionale e la conoscenza del territorio. Abbiamo iniziato un ciclo di seminari, un ciclo di incontri nell'ambito del corso di laurea in beni culturali e turismo, qui nel Dipartimento di Scienze della Formazione, e beni culturali e turismo dell'Università di Macerata. Questo ciclo di seminari dal titolo dialoghi a più voci riprende un'attività che era nel passato denominata cartellone turistico. Il tema di quest'anno riguarda i cammini turistico-culturali come strumento di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione turistica anche del territorio. Il tema di oggi è declinato sotto un punto di vista interdisciplinare dai nostri ospiti, tra i quali l'avvocato Simone Longhi, che è il presidente del distretto culturale voluto su cammini lauretani, proprio vede in primo piano la via lauretana come oggetto di studio e di indagine, come strumento per la valorizzazione e la promozione del territorio. La via lauretana è certamente un percorso artistico-storico che può trasformare il pellegrino in turista a tutto tondo. I tanti cammini lauretani mettono in mostra la storia dell'arte italiana dal 1400 al 1700. Loreto è stato un grandissimo santuario, un centro d'arte paragonabile a Roma per l'importanza degli artisti che nel tempo ci hanno lavorato e che tutt'oggi sono presenti con opere nel Museo della Santa Casa e con la Basilica. Ma inoltre, lungo tutto il percorso, le opere d'arte, statue, fresche, chiese ispirate a Loreto sono tantissime e aspettano però di essere comunicate in modo che chi va in questi luoghi sappia che quella è la Madonna di Loreto, il significato del pellegrinaggio e quindi di questo modello anche artistico. Per cui c'è il lavoro, c'è il lavoro veramente per i giovani studiosi che escono da corsi come questi dell'Università di Macerata per mettere in valore, cioè far conoscere questo patrimonio. Un percorso, quello rappresentato dai cammini lauretani, in forte sviluppo, come ha spiegato agli studenti l'Avvocato Simone Longhi, direttore del Distretto Culturale. Ci sono delle novità molto importanti per quanto riguarda il progetto dei cammini lauretani. Proprio la settimana scorsa tutti i sindaci legati all'Associazione Via Lauretana e i partner, e gli altri partner del progetto Cammini Lauretani hanno approvato all'unanimità la possibilità di accedere tramite un progetto unico a dei fondi regionali messi a disposizione appunto dalla Regione Marche, si tratta di 4 milioni di euro per attività di recupero del tracciato, segnaletica ma anche tutta una serie di iniziative che già abbiamo iniziato con il Distretto Culturale Evoluto.